Vacanze prolungate per gli studenti aquilani di un giorno è il secondo stop nel giro di qualche giorno perché dal 7 il rientro si era già posticipato al 10 gennaio per consentire l'effettuazione degli screening per la popolazione scolastica in vista del rientro che sono terminati ieri. Domani dunque si torna sui banchi dopo lo stop natalizio e dopo la nevicata di ieri sera che ha fatto produrre al sindaco Perluigi Biondi in serata appunto un'ordinanza di chiusura per evitare i disagi soprattutto negli spostamenti dei ragazzi che arrivano da frazioni e comuni più alti. E proprio ieri sera in città qualche disagio c'è stato ed è stato segnalato perché i mezzi secondo alcuni sono intervenuti con ritardo mentre il sindaco nell'annunciare la chiusura delle scuole ha spiegato che invece già si era al lavoro dalla mattina per spargere il sale visto che la nevicata era attesa. Questa mattina nel capoluogo lo spettacolo della città imbiancata era davvero suggestivo in centro e nei principali monumenti cittadini. Anche alcuni comuni più alti come Torni in parte hanno deciso di chiudere le scuole altri invece come Montereale le hanno tenute aperte con mezzi in azione. Scuole chiuse per neve anche ad Avezzano, Colle Longo, Ricola, Pereto, Rocca di Botte e Gioia dei Marzi mentre alcuni sindaci come ad esempio quello di Prezza e di Carzoli avevano già rinviato l'apertura ma a causa dell'elevato numero di contagi covid e non per neve. Ieri sera qualche disagio è stato registrato anche sulle autostrade 24 e 25 alcuni utenti hanno segnalato le carreggiate piene di neve polemiche segnalazioni che arrivano puntualmente ad ogni nevicata. All'Aquila però le strade erano regolarmente percorribili senza particolari disagi per la circolazione qualche problemino in più per i comuni più alti e per le frazioni più alte del resto in una città di montagna la maggior parte delle persone sono attrezzate con gli automobili pronte all'evenienza già da un po'. All'Aquila